Buongiorno ragazzi, oggi avviamo ufficialmente il nostro modulo di pallavolo, iniziando ad inserire quelle che sono le prime competenze necessarie per capire come si colloca lo sport della pallavolo all'interno del panorama complessivo dei giochi sportivi e quali sono le caratteristiche che ne sono discriminanti. Le tematiche di oggi appunto riguardano il concetto di sport di rimbalzo che si va a collocare in una specifica allocazione degli sport open skills o sport situazionali. Quanto è importante il rapporto con l'attrezzo, quindi la sensibilizzazione e la gestione dell'attrezzo stesso con le nostre parti del corpo, i concetti di discriminazione cinestesica e discriminazione oculomanuale come capacità coordinative che sono caratterizzanti di questo tipo di attività, ma come alla stessa maniera sono importanti e assolutamente centrali all'interno del pacchetto dei giochi sportivi in generale, quanto è discriminante il peso del pallone legato appunto alle capacità coordinative, l'importanza del derma come sistema di sensibilizzazione, ne parleremo più avanti, e poi come avviene di fatto le fasi di apprendimento con un passaggio da uno stimolo corticalizzato a subcorticale fino all'apprendimento e quali sono i tempi di apprendimento ideali oltre a quelli che sono la gestione dei target per poter ottimizzare il tempo di applicazione degli stimoli. Ovviamente tutto finalizzato a velocizzare quello che sono gli adattamenti, prima gli aggiustamenti e poi gli adattamenti dei nostri atleti. Quindi iniziamo capendo che cosa si intende con concetto di sport di rimbalzo. Allora non è sicuramente nulla di non conosciuto l'idea del open skill o sport di situazionale con diciamo la differenza tra rispetto allo sport ciclico. Lo sport ciclico è caratterizzato da un gesto ripetuto in maniera costante che viene soggettato normalmente a delle variabili di ritmo o di durata che però caratterizza un'attività. Esempi possono essere il ciclismo, la corsa, ovviamente all'interno della corsa ci sono per dire i cento metri e le maratone, quindi il gesto resta sempre quello però cambiano le variazioni. variazioni di ritmo, inteso come correremo i cento metri a un certo tipo di velocità, quindi a un certo tipo di frequenza di appoggio rispetto a una maratone. Così alla stessa maniera il ciclismo, se pedalo per fare una crono non è come fare una tappa in linea di un grande giro o di una gara di un giorno, avrò delle frequenze diverse. Se sono impegnato in una gara di mountain bike rispetto di una gara stradale o una gara su pista avrò lo stesso gesto che però ha delle contrazioni differenti, delle frequenze differenti, delle richieste differenti. Stesso gesto, pedalata, ambienti diversi che ne caratterizzano le differenze. Questo si contrappone drasticamente allo sport di situazione. Lo sport di situazione ovviamente è il classico gioco sportivo dove l'interazione con l'avversario, l'interazione delle situazioni ambientali fanno sì che io debba gestire attraverso dei regolamenti delle situazioni che possono essere non note. Quindi io non conosco a priori il movimento che devo fare sul campo di calcio, sul campo di basket, io non conosco a priori la traiettoria che assumerà il pallone colpito dal mio avversario in un campo di pallavolo. dovrò adattarmi e lavorare su questo tipo di stimolo. Quindi più sarò capace di adattarmi rapidamente, organizzare una risposta e avere la capacità di oppormi efficacemente a questo stimolo proposto da un avversario o da una situazione ambientale, tanto più sarò performante. che cosa caratterizza però nello specifico la pallavolo? la pallavolo fa parte di quegli sport che sono di rimbalzo, cioè se ragionate in funzione di tutto il panorama sportivo che vi viene in mente, troviamo pochissimi sport che fanno sì che il pallone debba essere colpito di rimbalzo per poter essere indirizzato o a un compagno o nel campo avversario. I classici esempi sono appunto la pallavolo e il beach volley, oppure il tennis e il tennis tavolo. tralascio tutti gli sport diciamo più recenti, quali possono essere il padel, lo squash, che hanno gli stessi principi perché riguardano comunque la famiglia dei sport da racchetta. Comunque in ogni caso il principio resta quello. la capacità non solo più di organizzare la risposta in funzione dello stimolo non noto, dovuto dall'arrivo del pallone, dovuto dall'arrivo della pallina che proviene dall'altro campo, dal nostro avversario, l'organizzazione della risposta, ma anche la capacità di applicare una forza adatta al pallone, alla pallina, per poter essere impattata nella maniera corretta ed essere indirizzata nell'altro campo o, nel nostro caso, nel nostro campo se dobbiamo effettuare un passaggio, un tocco all'interno del mio gruppo squadra, però devo farlo in maniera, come dire, controllata ed essere in grado di gestire al meglio la forza da applicare sul pallone per poterlo gestire al meglio e descrivere la traiettoria che io voglio, appunto, far fare al pallone, indirizzandola dove voglio. Quando parliamo di gesto di rimbalzo diventa centrale parlare di sensibilizzazione, quindi cosa dobbiamo fare? In prima istanza abbiamo una capacità di dover colpire il pallone e mandarlo dove vogliamo. Ovviamente in questo caso io mi focalizzo sullo sport, sul modulo che stiamo intraprendendo, quindi la pallavolo, ma al principio non si distacca molto da altri sport e cercheremo di capire come questa capacità sia assolutamente trasversale all'interno di tutti i giochi sportivi. Vi mostro questi video che abbiamo raccolto per mostrarvi come si può iniziare ad organizzare una fase di sensibilizzazione. Qui vediamo l'atleta che inizia già lavorando con dei piccoli adattamenti, dei piccoli spostamenti su quelli che sono il piano, su quello che è il piano di rimbalzo, quindi la sensibilizzazione dell'avambraccio al muro. Vedete che semplicemente la ragazza cerca di colpire il pallone e mandarlo al muro attraverso un impatto preciso verso il baricentro del pallone stesso che va dritto al muro. Diverse varianti possono essere fatte, quindi colpisco con il braccio destro e vado verso sinistra, o colpisco col braccio sinistro e vado verso destra, sempre accompagnata da un movimento di piedi per poter adattarci a quello che è il perfetto allineamento del corpo dietro la linea della patta. Qui vedete una situazione di sensibilizzazione dell'avambraccio ad altezze diverse con sempre il piano di rimbalzo che viene appunto aggiustato sotto la linea del pallone. La ragazzina si sposta, porta in giro il pallone, tutte richieste diverse, quindi sia la capacità di far rimbalzare il pallone sopra l'avambraccio, sia la capacità di poterlo controllare da destra verso sinistra, avanti verso dietro. Queste sono tutte fasi di sensibilizzazione che vengono fatte per poter adattare l'avambraccio ad abituarsi a sentire il peso del pallone. La bimba in questo caso applicherà più forza, più vigore nella spinta per far sì che la palla abbia una traiettoria maggiore. indipendentemente da quella che sia la tecnica applicata, capite che riuscire ad applicare una forza giusta per far far compiere la traiettoria che desideriamo al nostro pallone diventerà una parte fondamentale. E in questo caso entra in gioco quella che viene chiamata discriminazione cinestesica. Che cos'è la discriminazione cinestesica? Fondamentalmente la discriminazione cinestesica è la capacità del nostro corpo di applicare una forza per effettuare un compito. Vi metto questa slide per farvi capire cosa intendo. A sinistra potete vedere una mano che afferra un bicchiere di carta. Le dita avranno una pressione adatta a tenere in mano quel bicchiere di carta. Se le dita stringessero troppo forte il bicchiere di carta si accartoccierebbe. Vorrebbe dire che ho applicato una forza disadatta al compito. Alla stessa maniera se afferro un peso con una mano la mia applicazione di forza sulle dita diventa molto più vigorosa. E alla stessa maniera se le dita non contraggono sufficientemente in maniera solida non riesco a staccare il peso dalla rastrelliera in questo caso. Ora questo principio ipotizziamo di poter invertire le due forze quindi applico la forza per raccogliere il bicchiere di carta alla mano che deve staccare il peso e viceversa. Il peso non si stacca dalla rastrelliera e il bicchiere di carta se applico la forza che utilizzo per raccogliere il manubrio si accartoccia. Questa è un esempio di discriminazione cinestetica fallimentare. Alla stessa maniera se io impatto il pallone in maniera non adeguata a quello che è il compito che devo fargli compiere quindi la traiettoria che mi deve descrivere nello spazio il pallone va da un'altra parte. Il pallone fa una traiettoria che io non desidero. Nel nostro caso lo facciamo con l'avambraccio per partire con i fondamentali di seconda linea della pallavolo se però lo applichiamo in altri sport abbiamo lo stesso principio se calcio il pallone il pallone deve devo calciarlo con la forza giusta per fargli fare una parabola che desidero immaginate l'idea di fare un lancio un cross devo avere la forza giusta se parliamo del tennis devo colpire la pallina col vigore giusto perché se no la palla o descrive una traiettoria troppo bassa e va in rete o una traiettoria troppo lunga e va fuori dal campo non so se riesco a spiegare questi principi sono tutti fattori di discriminazione cinestesica la capacità di applicare forza e per fare questo abbiamo bisogno di una stabilizzazione del gesto abbiamo necessità di fare un passaggio da una condizione di tipo di gestione corticale del nostro gesto del nostro gesto a una gestione di tipo subcorticale che cosa significa nel momento in cui iniziamo un'attività la nostra gestione è necessariamente di tipo corticale vi metto qui un'immagine di un piede che stacca la frizione e per chi di voi ha la patente penso quasi tutti immagino ricordate quando avete incominciato a prendere avete iniziato la scuola guida il gesto di staccare la frizione era estremamente rigido lento molto controllato dovevate pensarci in maniera molto dettagliata perché sennò la macchina si spegneva oggi compiete lo stesso gesto senza far più tutto questo sforzo riuscite a farlo in maniera molto 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 più facile immediata e soprattutto potete farlo anche facendo altre cose altre attività non non sto qui a sindacare che sia giusto farlo o non farlo però sono certo che molti di voi mentre guidano magari guardano il telefonino guardano il non lo so il navigatore piuttosto che controllano di aver preso qualcosa nella borsa però se deve se scatta il verde siete in grado di staccare la frizione e andare avanti questo perché perché la gestione di questo tipo di stimolo è passata da livello corticale quindi super centralizzato a una fase subcorticale più rapida più immediata più stabilizzata se descriviamo tre tipi di stimoli uno stimolo corticale quindi devo pensare a quello che faccio per poter mettere in atto a mettere in atto l'azione che ho in mente oppure uno stimolo subcorticale per esempio un gesto stabilizzato che mi costa meno energia mettere in opera che può essere per esempio camminare che può essere per esempio correre che può essere per esempio non lo so nel nostro caso se lo so fare staccare la frizione una serie di gesti che piano piano vengono automatizzati e costano meno energia al nostro corpo cioè non ho più bisogno di un controllo cognitivo di attenzione totale riesco a gestirli con degli apparati che non hanno più bisogno dell'imprinting di quello che è il presidentissimo della nostra azienda ipotizziamolo su un albero aziendale le cose più importanti passano dal presidente che deve avvallarle prima di mandarle avanti quindi prima di stringere un accordo molto importante sarà il presidente che dovrà siglare l'accordo se invece c'è qualcosa di meno importante più rutinario ci saranno dei manager a gestire le problematiche stessa cosa per noi camminare gesti stabilizzati quale possono essere appunto staccare la frizione correre allo stesso modo portare il cibo alla bocca mentre mangiamo una serie di skills che vengono indotte vengono stabilizzate e vengono gestite da apparati non pienamente centrali quindi dai nostri manager quindi dagli apparati subcorticali e poi abbiamo ancora va bene le risposte midollari che sono i riflessi però in questo caso i riflessi andiamo su una risposta di tipo tardivo e di emergenza quindi sono soltanto di salvaguardia per il nostro corpo tutto questo per dire che un gesto anche tecnico può essere subcorticalizzato quindi la ripetizione aiuterà al nostro corpo ad essere meno dispendioso nella gestione nell'organizzazione del gesto stesso ovviamente ha tutto vantaggio della performance più io sono bravo a gestire una situazione senza dover passare a livello corticale più sarò capace di applicarla in maniera rapida come appunto staccare la frizione quando diventa verde il semaforo nel nostro caso abbiamo bisogno di una sensibilizzazione del derma della pelle fondamentalmente perché il pallone colpisce il nostro corpo noi colpiamo anzi scusate colpiamo noi il pallone con il nostro corpo con l'avambraccio con la mano essere capaci di impattare con correttamente e avere la forza giusta è determinato dalla qualità di sensibilizzazione che siamo riusciti ad applicare al nostro corpo di di fatto il derma è il recettore del corpo umano più esteso è quello che ha di fatto i recettori superficiali più pronti più più reattivi agli stimoli quindi già far rimbalzare la palla sull'avambraccio può essere una una componente che sensibilizza che aiuta che di fatto da una un passaggio dall'idea corticale all'idea subcorticale per quanto riguarda poi il gesto motorio il fondamentale nel nostro caso ci porterà poi a fare il bagger ma immaginatelo su qualsiasi altro sport se palleggiate col pallone con i piedi giocando a calcio sensibilizzare il collo del piede nel controllo è assolutamente uguale un qualitario avere quella capacità di sensibilizzazione del collo del piede è di fatto una sensibilizzazione del piano di rimbalzo del collo del piede e come faccio io a far migliorare i miei atleti su quello specifico sistema qual è la via più facile vi ricordo che nel nostro caso l'azione il fondamentale in questo caso il fondamentale di seconda linea quindi il futuro bagger che dovremmo mettere in campo sarà applicato su un sistema open skills su un sistema situazionale non sappiamo a priori dove arriverà la pallina nel nostro caso la palla dovremmo essere in grado di descrivere la traiettoria muoverci rapidamente organizzare la situazione e colpire il pallone in maniera adeguata per fargli eseguire un compito discriminazione cinestesica quindi qual è la via migliore qual è il passaggio migliore per far sì che il gesto passi da un gesto di tipo corticalizzato a un gesto subcorticalizzato la prima cosa come potete vedere in questa slide è l'impostazione del gesto quindi la frequenza non è il fattore discriminante il fattore critico è la capacità di fare in maniera lenta e controllata ripetere in maniera lenta e controllata il gesto stesso nel nostro caso se dobbiamo colpire il pallone con l'avambraccio come abbiamo fatto con nella nella slide video che vi ho mostrato pochi minuti fa significa che non importa quante volte colpisco l'importante è che inizio lentamente a pensare a come colpisco quindi per ogni impatto devo verificare se la palla ha fatto o non ha fatto quella traiettoria che io mi aspettavo ma aspettassi scusate quindi la palla colpita dal mio avambraccio è andata dove volevo sì no ho colpito troppo a destra ho colpito troppo a sinistra non importa la velocità della qualità di stimolo conta se sono riuscito o non sono riuscito ad eseguire il compito se ritorniamo indietro in questo caso la palla vedete va va dove voglio va verso l'alto va verso il basso riesco a colpirla nella maniera corretta qui in questo caso siamo già su una situazione molto già sub corticale se vogliamo vedete come la bimba parte e sa già che la palla va lì ma se per caso sbagliasse non è importante la velocità è importante che la palla vada lì è importante che la palla vada all'altezza giusta che desidero di certo eccoci qua di certo in questo caso è importante la risposta e i feedback che l'allenatore riesce a dare al proprio atleta quindi stai colpendo troppo forte troppo piano stai nel nostro caso potrebbe essere hai piegato il gomito nel nostro caso potrebbe essere ruota di più extra ruota di più il polso per avere un piano di rimbalzo più ampio lo vedremo più avanti la posizione del polso offre un maggior piano di rimbalzo e quindi ovviamente avendo una maggior superficie dove far impattare la palla è più facile colpire il pallone stesso è come dire devo colpire una palla con una mazza da baseball o devo colpirlo con una racchetta da tennis più la superficie abbia più ho probabilità che la palla rimbalzi per bene nelle fasi dell'apprendimento la prima cosa è la qualità quindi una frequenza di stimolo adatta inteso come non occorre andare a miglia all'ora però occorre che per ogni gesto venga fotografato il dettaglio che ci interessa venga discriminata il frangente centrale che fa sì che la palla descriva la traiettoria che noi vogliamo per poi passare a una seconda istanza quella della coordinazione grezza quindi il movimento è leggermente consolidato e attraverso una serie di ripetizioni si cerca di automatizzarlo quindi di fatto stiamo facendo prima un passaggio estremamente corticalizzato quindi penso ad ogni impatto lento la frequenza non conta passiamo a una seconda fase dopo aver più o meno appreso come si fa banalmente il gesto nel nostro caso impattare la palla con l'avambraccio cerco di accelerare cerco di nonostante lo stimolo non sia ancora stabile quindi certe volte riesco a farlo e certe altre no vado avanti e provo ad aumentare la frequenza di impatto come faceva la bimba nel video precedentemente quindi impatto più rapidamente cerco di aumentare la richiesta quindi prima colpisco il pallone soltanto verso l'alto poi posso richiedere altezze diverse poi posso chiedere come vi dicevo precedentemente di colpire andando verso destra verso sinistra queste fanno parte della coordinazione di tipo grezzo quindi cosa significa significa che in questo frangente non sono ancora stabile probabilmente sbaglierò il compito dell'allenatore è fare una proposta adeguata a quello che è il livello dell'atleta quindi se non sbaglia mai la proposta è troppo facile se sbaglia sempre la proposta è troppo difficile dover modulare questo tipo di frangente diventerà fondamentale per la buona riuscita dell'apprendimento stesso andiamo poi verso una coordinazione fisso fine scusatemi dove il gesto è stabilizzato è sempre più efficace e sviluppato con esercitazioni più articolate quindi iniziamo a sistemare il gesto con dei vincoli maggiori quindi nel nostro caso tornando sempre alla nostra atleta mini atleta colpiamo la palla con un braccio al muro ci spostiamo a destra a sinistra i piedi devono in questo caso il compito era tenere il destro avanti farlo con il piede sinistro avanti quindi dare indicazioni su quelle che sono la la gestione del peso del corpo quindi manda il piede destro avanti il piede sinistro avanti nel nostro caso potremmo anche fare in questo caso non c'è nel video ma un colpo col braccio destro e un colpo col braccio sinistro ti sposti a destra colpendo col braccio sinistro e viceversa alcune situazioni come in questo caso come avevamo già visto precedentemente piedi pari prima sul posto poi lentamente chiediamo delle altezze diverse colpisci più piano più forte portala più in alto in questo caso vedete la bimba prima colpisce a una forza x che ci fa rimbalzare la palla più vicino e poi in giro con spostale in avanti col piede destro spostale indietro col piede sinistro avete capito variabili inserisco più variabili all'interno di un gesto che piano piano inizia ad essere più stabile quindi il gesto è un po' più stabilizzato ed è però più efficace quindi viene sviluppato con esercitazioni più articolate quindi una volta in questo caso che l'atleta riesce a gestire in maniera adeguata questi stimoli variabili variazioni dello spazio vincoli nuovi vincoli quindi colpisco la palla e mi sposto per avanti mi sposto per dietro l'esempio che vi ho appena portato a questo punto è ora di inserirlo in quella che è la fase di consolidamento della coordinazione fisine o fase della disponibilità variabile cioè di fatto lo dobbiamo utilizzare in campo quindi in esercitazioni di situazioni tecnico-tattiche la bimba dovrà essere in grado di applicare quel tal fondamentale così come spostiamo il suo altri sport dopo che ho lavorato con la sensibilizzazione nel calcio per dire per fare un esempio a caso dei piedi dovrà essere in grado di proporlo durante una fase di esercitazione sintetica in cui il giovane calciatore deve fare un cross per esempio e passare la palla al suo compagno ipotizziamo oppure il portiere deve rilanciare la palla con i piedi al suo compagno oppure non lo so immaginatevi qualcosa da traslare all'interno del vostro sport di riferimento però il principio resta sempre quello gli scalari restano sempre quelli prima gesto bassa frequenza molto concentrati su ogni ripetizione su ascoltare il corpo su ogni ripetizione il nostro compito è dare i dettagli curare e mettere l'accento su quelli che possono essere gli errori che il giovane atleta sta effettuando per poterli ovviamente correggere poi abbiamo una fase in cui c'è la coordinazione grezza iniziamo ad alzare la frequenza con aspettandoci che ci siano ancora degli errori ma in una situazione stabile uno stimolo per volta ad esempio colpisci la palla al muro con l'avambraccio destro sempre uguale sempre ferma sul posto colpisci col braccio sinistro adesso alternato braccio destro più braccio sinistro uno e uno però uno stimolo per volta cercando di aumentare un po' la richiesta di di frequenza ma senza variare troppo si passa poi alla coordinazione di un gesto della coordinazione fine quindi il gesto sempre più efficace e quindi allora cosa si fa si chiamano variazioni quindi vai verso destra col piede destro avanti vai verso sinistra col piede sinistro avanti vai altezze diverse sulla testa colpendo il pallone ricordatevi sempre il video che vi ho mostrato fino ad arrivare alle esercitazioni tecnico-tattiche complesse dove si mette in piedi di fatto nel sistema nel sistema tattico di gioco di squadra il fondamentale che stiamo andando a sviluppare qual è il tempo di apprendimento ideale il cervello è bravo a gestire stimoli per 30 40 secondi quindi le nostre esercitazioni a muro sui vari step nel nostro caso io dico a muro perché è quello che vi ho mostrato immaginatele sempre su quello che è il vostro sistema di gioco sul vostro sport di riferimento dovrebbero durare dai 30 ai 40 secondi quindi faccio la fase di sensibilizzazione dell'avambraccio destro quanto vado avanti? vado avanti circa 30 secondi 40 secondi al massimo in funzione di anche quanto sono abile più sono abile più il tempo si riduce perché? perché probabilmente sbaglierò di meno però in generale mai più di 30 secondi di lavoro a fronte di un rapporto con il riposo di uno a uno questo perché se faccio 30 secondi di lavoro incamero degli stimoli il derma raccoglierà con gli esterocettori alcuni stimoli sulla fase del peso del pallone sulla capacità di applicare la forza giusta per fargli descrivere appunto la traiettoria che mi interessa in circa 30-40 secondi accumula un certo tipo di stimoli ha bisogno di 30-40 secondi di tempo per riorganizzarli e iniziare una fase di stabilizzazione quindi 30 secondi di lavoro 30 secondi di recupero 30 secondi di lavoro 30 secondi di recupero ovviamente questo tipo di stimolo è da incasellare su quella che è la progressione di cui abbiamo parlato fino adesso quindi prima sulla stabilizzazione dei gesti in maniera molto corticalizzata poi su una coordinazione fine poi sulla coordinazione fine sempre di livello leggermente superiore fino alla messa del sistema in campo però il tempo in cui soprattutto nella fase di apprendimento sono devo essere concentrato e focalizzato deve sempre stare all'interno di questo diciamo frame di tempo 30-40 secondi perché è quello ideale in cui il cervello riesce ad incamerare stimoli lì rileggia il sistema e ripropone una risposta di livello superiore quanto va avanti il lavoro il lavoro prosegue fino al raggiungimento dell'obiettivo tecnico-tattico che ci siamo prefissati oppure al decadimento della prestazione in certi casi invece di migliorare il cervello si affatica quindi il sistema non è più in grado di incamerare stimoli e la prestazione decade quindi peggioro allora a quel punto lì è meglio fermare l'esercitazione e passare a qualcos'altro per poi riprendere in un secondo frangente in un secondo momento di nuovo gli stimoli che stavamo trattando per poterli passare da una condizione corticalizzata a subcorticale diciamo che per quanto riguarda la fase di sensibilizzazione e di apprendimento queste sono i punti principali che sono di nostro interesse ovviamente ci sono molte cose da approfondire il mio la mia idea è quella di per gestire al meglio il corso in queste condizioni quindi da remoto sarà quello di mandarvi il materiale in anteprima in questo caso questa presentazione questo video di presentazione di questa lezione di tipo tecnico e poi discuterne con voi frontalmente o in video call oppure spero il prima possibile di poterlo fare in presenza dove magari possiamo anche provare i gesti e farvi lavorare e farvi sentire le sensazioni quindi far capire ancora di più quanto sia difficile far far apprendere il gesto a un giovane atleta o a comunque un atleta che è neofita dell'attività che sta intraprendendo quello che ci preme capire è che io continuo a portare gli esempi sulla pallavolo perché il modulo è quello di pallavolo ma voi potete estrapolarli e dovete incasellarli all'interno della vostra attività questa è una cosa fondamentale perché il mio obiettivo è quello di darvi delle competenze spendibili sul vostro mercato voi dovrete essere sufficientemente bravi da apprendere questi tipi di competenze rielaborarle eventualmente possiamo anche parlarne quindi nelle sessioni frontali o in video o in in presenza speriamo il prima possibile parlare di quello che è il vostro caso specifico e cercare di traslare e sovrapporre questo sistema di applicazione a quello che è la vostra esigenza in maniera appunto da poterlo rendere più spendibile più fruibile e più trasversale possibile a quello che è il vostro canale di riferimento il vostro mercato di riferimento ecco i punti focali sono quelli appunto delle teorie dell'apprendimento quindi della gestione corretta degli stimoli per far passare per far stabilizzare un gesto e in più logicamente la capacità di sapere il perché questa cosa avviene perché ho bisogno di quali sono per esempio le capacità coordinative che mi occorrono per mettere in piedi questo tipo di stimolo quali sono le strutture che vengono implicate in questa fase dell'apprendimento quali sono i tempi ideali di lavoro e di riposo per far sì che il cervello apprenda questa nuova abilità e possa portarla avanti in maniera più stabile più solida e più robusta all'interno del percorso di crescita dei nostri atleti per questa prima video lezione direi che è tutto resto a disposizione per le domande gli approfondimenti come vi dicevo iniziate a studiarvi il questa questa lezione e iniziate a guardarvi il materiale lo approfondiremo in una call frontale dove potremo parlare in separata sede con i vostri rispettivi sottogruppi del canale A e del canale B metterò a disposizione anche le slide che troverete all'interno dell'e-campus oltre che di Moodle e rimaniamo sempre in contatto e cerchiamo di avere sempre sotto controllo quelle che sono le gli aggiornamenti riguardanti sia il materiale didattico settimanale sia quelle che sono le le call che terremo frontalmente durante il corso dell'anno spero veramente di riuscire al più presto ad uscire da questa situazione da remoto e rendere il più interattivo possibile il nostro rapporto che al momento è un po' così un po' freddo un po' a distanza ecco vi auguro una buona giornata una buona settimana e ci teniamo aggiornati grazie di tutto